Padova è una tra le città più belle d'Italia, ma scippi, rapine e una diffusa criminalità l'hanno resa una città invivibile e a farne le spese sono soprattutto pensionati ed anziani. Riprendiamoci la città per rompere solitudine e povertà, per garantire sicurezza e tranquillità, per dare a pensionati e ad anziani servizi adeguati, un alloggio dignitoso e una città vivibile e fatta a misura d'uomo, il 25 maggio vota pensionati per Padova e a fianco scrivi la preferenza Marcassa.